Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Per la classe del titano venderà le barriere a reazione ACD0, dei guanti esotici introdotti ormai nell'anno 1 e il cui effetto sarà quello di infliggere danni ad aria quando si verrà colpiti da attacchi corpo corpo. Nel PvE saranno utili ad esempio nello step del raid di Crota delle Lanterne perché tutti i nemici praticamente andranno di corpo a corpo. Nel PvP invece saranno abbastanza utili quando si giocherà con uno stile di gioco abbastanza aggressivo, quindi armati di fucili a pompa e rush puro. Il fatto, più che altro, è che nel PvE tendenzialmente i nemici tenderanno a sparare, nel 90% dei casi gli scontri saranno di quella tipologia e il poco danno generato da questo pezzo d'armatura non giustifica l'utilizzo. Nel PvP discorso analogo. La combo barriera a reazione più pugno non sempre ci consentirà di vincere uno scontro, il danno non sarà sufficiente. Inoltre, anche con uno stile di gioco abbastanza aggressivo, altri pezzi d'armatura sarebbero ben più utili. Ad esempio, per la classe del difensore, ci sono in nessun piano di riserva decisamente migliori. Quindi, se non per collezioni, ne sconsiglierei l'acquisto. Per la classe del cacciatore venderà le ossa di Eau, stivali esotici che ci consentiranno di poter compiere un salto aggiuntivo. E questo pezzo d'armatura, sul cacciatore, è un must-have. Utilissimo sia nel PvP che nel PvE. E la sua utilità, esattamente come per altri pezzi d'armatura, come ad esempio il bastione del crepuscolo, sarà puramente passiva. Questo pezzo d'armatura aumenterà notevolmente la nostra agilità, ci consentirà di muoverci più velocemente nella mappa, schivare più velocemente, inseguire più velocemente, scappare più velocemente. Ma per essere sfruttato a dovere, saremmo noi a dovercela giocare bene. In generale però è un ottimo pezzo d'armatura. Infine, per la classe dello stregone, venderà il cuore di fuoco prassico. Torace esotico che con radianza attiva, aumenterà l'agilità e ridurrà il tempo di recupero delle nostre abilità. Pezzo d'armatura che in particolare nell'anno 1 veniva usato davvero molto, ad esempio nel raid di Atheon, per poter sfruttare maggiormente le abilità, le granate e ottenere nel complesso un DPS più alto. Arrivati all'anno 3 però diciamo che come pezzo d'armatura non è più così tanto valido. E se paragonato ad altri, oserei quasi dire che è inutile. Motivo per cui al momento, ad oggi, ne sconsiglio l'acquisto. L'arma di questa settimana poi sarà le Dura Luce, un ottimo fucile automatico, buone statistiche, buoni perk e soprattutto non sarà afflitto dalla agitata, ad ogni distanza farà sempre lo stesso danno e per variare un po' dalle solite armi, vi consiglierei perlomeno di provarlo. Il gramma storico di questa settimana poi sarà per l'arma speciale e due pacchetti di armi saranno Ultima Parola con il decoro Addendum e Morte Rossa con il decoro Meggera Bianca. Dunque, per quanto riguarda lo Xur di questa settimana è tutto. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e il vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!